C'è qualcosa di vero? C'è stato qualche approccio in passato? Il fatto che qualcuno abbia ritenuto che potessi essere io a svolgere un ruolo di assessore a livello regionale mi ha gratificato. Quindi un rapporto c'è stato? C'è stato un dialogo, io però ritengo di dover proseguire un impegno parlamentare nazionale e poi guardare sempre con più attenzione e cominciare a lavorare sempre più intensamente all'obiettivo delle amministrative del prossimo anno ai fini della scelta del candidato sindaco per la città di Catania. Quindi a chi voleva un suo impegno regionale per lasciare campo libero su Catania, sulle prossime amministrative? Io diciamo che il campo è libero, nel senso che tutti hanno la possibilità di proporsi e penso che come ho fatto io in maniera diretta e chiara, mettersi a disposizione del centro-sinistra, mettersi a disposizione della città. Se ci dovesse essere più disponibilità selezioneremo il candidato migliore con lo strumento delle primarie che è uno strumento efficace e congeniale. In questo momento state lavorando per le primarie del 25 di novembre? Sì, anche se siamo un po' in ritardo perché inevitabilmente siamo stati presi dalla campagna per le regionali, dai giusti festeggiamenti conseguenti alla vittoria, dall'esigenza di rideterminare un assetto complessivo anche del governo regionale. Ancora oggi Crocetta non è nel pieno della sua attività, è ovvio che questo è il secondo appuntamento che avevamo in calendario, l'appuntamento delle primarie e a questo appuntamento stiamo lavorando sempre più intensamente negli ultimi giorni. Lei è pro Bersani? Sono decisamente pro Bersani, sono convintissimo di questa scelta, ero convinto nel 2009 che fosse la migliore scelta come candidato alla segreteria del Partito Democratico. Questi anni mi hanno confermato nella bontà di quella scelta, nella efficacia delle politiche che ha messo in atto Bersani come segretario nazionale. Penso che essendo il segretario nazionale del più grande partito italiano, abbondantemente il più grande partito italiano, oggi stimato oltre il 30%, Bersani possa legittimamente ricoprire la carica di candidato premier e domani quella di presidente del Consiglio italiano.